Gli indici d'ascolto, come dire, si alzano e poi non conduco un programma, anche se poi qualche programma l'ha condotto. No, ne ho condotti molti e quelli che sono andati bene erano sempre casuali, tipo non so, io feci Galagol che non voleva fare nessuno, fu un grandissimo successo. Maca era una patata bollente, fu un grandissimo successo. Diciamo che quando la barca sta affondando, molto spesso ci mettono sopra il primo che si piglia una responsabilità, in quel caso ero io, e poi viceversa, quando c'è stato da avere un programma, magari cucito, fabbricato per me, c'erano degli altri. Ma va bene. Ora che vorrebbe fare? Io vorrei fare finalmente qualcosa che mi desse un po' di soddisfazione. Io credo di aver fatto bene teatro, 120 repliche, con successo di pubblico, di critica, e mi piacerebbe fare una bella fiction per la televisione, più che per il cinema, perché secondo me la gente vede più la televisione di quanto va il cinema. È un dato triste.